Tommaso Vercello Tommaso Vercello Tommaso Vercello Tommaso Vercello Tommaso Vercello Ecco, è arrivato l'elicottero Tettacoli, Tommaso vai a prendere i soldi, mentre io mi faccio un'altra bella, sniffata di cocaina. Quindi non fate stronzate, o altrimenti entro in ultra insinto, e vi spacco quelle merdose facce di cazzo che avete. Adesso vi incuriamo senza basella con tanto di fucile a pompinazzo a cacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacac sono i miei soldi ma ti pare che me li sono messi nel culo centesimo per centesimo i soldi sono qui e ora la shish concludiamo questa trattativa adesso vi inculiamo a sangue figli di vuotanazza e sborrata in culo per ore ore mani in alto figli di su caminchiù che sta è una fotutissima rapina oh cazzo sta andando tutto a puttane filiamo via prima che ci buchino come dei tossici di secondigliano a tutto da a 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 ma porca puttanissima puttanossissimamente puttanosa il karma di merda chi l'ha creato adesso si che mi condanno all'ergastolo quasi quasi mi fico il palo in culatore di neradi in culo derivante dalla serie di salviamo loquendo siti nel canale di lene non se ne parla più state bono vedrai che un giorno di sistemerà tutto scopriremo chi sono i bastardi che si hanno fottuto il nostro carico narcotrafficante oh ciao gente come ve la passate a meno molto bene quei mafiosi bastardi ci hanno teso un agguato e ci hanno fottuto un intero carico di hashish se scopro chi è stato gli fico una bella forca nel buco del culo credetemi io tommaso vercello sono più cattivo di un certo sigello nella serie loquendo nel canale di capon non vi preoccupate che ho deciso che forse farò 5 o 3 loquendate su questo gioco e poi continuo con san andreas poi non appena finisco la serie di san andreas inizio la nuova serie loquendo di sony killer riccio che fa le capriole come consigliato da xalcas ci sarà datemi il tempo di imparare a memoria tutti i livelli di quel gioco e inizierò anche quella serie intanto veniamo al dunque quel coglionazzo di sony in cularelli mi ha pure lasciato una villa da barbonazzi dopo essere stato in carcere per quindici anni è così che mi ripaga quel bastardo beh purtroppo devo dargli delle brutte notizie speriamo che non si incazzi altrimenti mi incazzo peggio di lui come il sommovate preso in un attacco di hira quando il mona sbatte la porta e chiude urlando se sei troppo scarso per fare una missioncina difficile puoi pure salvare e mentre sei in pausa puoi pure andare in bagno a farti una bella sega da sfigato in mancanza di gnocca ma chi è che ha parlato vabbè ora chiamo a quel coglionazzo di sony in cularelli e gli dico di quella brutta faccenda spero tanto che non si incazza o altrimenti sarò nella merda più totale quando chiama quello sfigato oh eccolo ora rispondo e gli faccio una scenata x di x di as lol ciao pirla m volevo dire ciao tommaso come te la passi hai preso la droga ergastolosa vero 15 anni credo che ti hanno cambiato scommetto beh dai purtroppo è così che va la vita che ci puoi fare beh 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 su con la vita tommasone sempre incazzato sei dimmi una cosa i soldi me li hai portati dimmi di sì se no altrimenti talmente che sono preoccupato che esplodo dall'ansia non sonni non ti sto prendendo per il culo la mafia mi ha fottuto i soldi c'è stato un imboscata siamo rimasti sopravvissuti solo io che è brutto cazzone sapevo che non potevo fidarmi di te adesso sono più povero di un senegalese che gioca a biliardino con il biliardo di cartone aspetta un attimo cazzone ti prometto che ti recupero i soldi centesimo per centesimo dammi solo tempo che le cose si sistemeranno vabbè di certo non sei così rincoglionito come sembri ma stai attento che io non scherzo manco per il cazzo recuperami i soldi o sarai un uomo morto ma ti risparmio soltanto se era stato qualcun altro lo condannavo già alla sedia elettrica super sei andiamo da ken il fidanzato di barbie m ken stronzemberg m ken rosenberg di sicuro si sarà ha sniffato altri grammi di hashish per calmare la sua ansia madonna cosa ho fatto di male per meritarmi un avvocato così mongolo mi sa che mi pento di aver scontato 15 anni di galera era meglio il suicidio e tra l'altro qui a baessa city non se la passano così male e tutti con la lamborghini ferrarozze della madonna maserate bestiali eccetera eccetera e io devo guidare sta carretta da morto defame poi quel coglione di sonni in cularelli mi fa pure un cazziattone per aver perso i suoi soldi cazzone rai cazzone rimasto beh smettiamola con tutti questi piagnistei ormai il danno è fatto pensiamo solo a come trovare una via migliore per uscire da questa merda ma porca troia una troiosissima di una troia che mi fa le seghe viene sborrata in bocca come una cavalla in calore siamo nella merda quei fotutissimi forelli ci infilano il palo in culatore di nera di un culo credimi io il diploma non me lo sono preso con i punti della parmalat ci ho sputato sangue per averlo e adesso tommasso cosa cazzo facciamo dimmelo tu cosa cazzo facciamo cazzo sei talmente di tanti caffè che mi sono bevuto che tra poco entro in ultra istinto dimmi cosa facciamo sto per entrare in depressione cronica per quanto siamo fottuti in questo momento cazzo 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 e ancora cazzo questi ci inculano a sangue freddo se non gli troviamo quei cazzo di soldi stai zitto ora ti dico io cosa faremo scopriremo chi è il bastardo che ci ha fottuto la shish ma prima ci servono delle informazioni va bene ma leva i piedi dalla scrivania sbaglio ti avevo detto che abbiamo bisogno di informazioni va bene c'è un vecchio chiamato io an garcia cortes recati da lui che ti darà le informazioni di chi ci ha fottuto la shish ma per prima cosa cambiati di abiti che così non ti se può guarda mi pari proprio un barbone brutto stronzo insulta i miei abiti e vedi come ti spacco quegli occhiali da sole che hai e tutti i denti che hai te li faccio saltare io capito stronzo no tommaso sul serio quella camicia vaiana è bellissima solo che ti prendono per un barbonazzo cazzo se non mi faccio una sega non mi calmo cazzo cazzo è ancora cazzo tu sei troppo agitato mi sa che il crack ti fa male passa alla cocaina te lo consiglio brutto stronzo insulta la mia droga e ti spacco quella faccia da griffin che hai ora vai in un negozio di abbigliamento e mettiti i vestiti d'legantone pieno di soldi e togliti sti vestiti da fottuto barbone che non ti se può guarda ma cazzo ora tra poco impazzisco come quando da bambino ero nella giostra quando improvvisamente uscì fuori di testa e picchiò tutti a uno a uno perché mi guardavano tutti storto cazzo che merdosi ricordi d'infanzia che ho agagagagaga caspita sti vestiti non sono male e c'è una moto fottiamola perché non c'è niente di cui possa fottere sono un motociclista ricchio ne me ne vanto pure xd dammi la moto razza di rimbecillito che non sei altro e grazie per la moto testa di citrullo che non sei altro adios cornutazzos ora richiamoci da juan chakitar e da juan garcia cortez ma prima applichiamo la tecnica del teletrasporto 3 2 1 teletrasporto bella frate comete la pace da come o capito e kicker contodi che la bocato che parla a velocemente con quale onore parlarle se posso sapere il vostro nome sono tommaso vercello sapete prima che caponi iniziava questa serie con loquendo ero protagonista nei video cazzeggio di questo gioco quasi quasi mi viene da piangere per la nostalgia vedai tutto sommato sono incidenti c'è capitano ben non nascondo c'è una figlia molto estupenda forse in futuro diventerà una porno diva eccezionale però voglio c'è segue le vecchie tradizioni e con la tela presento figlia mia questo è tommaso vercello occupati di lui mentre io mi preparo in altre faccende certo papà no ti chiami mercedes come la marca dell'automobile m m vabbè lasciamo perdere ti presento la gente che è in questa nave peccato che sono tutti dei maledetti morti di figa ti presento scrubs lui è il regista che registra i film porno con lei c'è candi sux che è talmente una zoccola non molla il cazzo nemmeno per un secondo quello sfigato alla fine lo ha murlato perché ha scoperto che è fruccio e gli piace il cazzo ben gli sta gagagagagaga sfigato e sfigato rimane beh parliamo al dunque l'altro scemo è quello che colui che crede di essere richard benson in poche parole prova a imitare i suoi insulti cercate di non starmi troppo vicino che talmente delle belle gnocche che siete mi fate risvegliare il bel serpente che vive nelle mie mutande a sapete che un giorno ho sacrificato il pollo a sadana minchia quelli sì che erano bei tempi allora un giorno mi sono trombato a quella figa di cendi sux e immaginate che mi aveva fatto un bel pompinazzo grosso così e poi gli ho detto oh sì 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 ingoi a tutto se non ingoi ti faccio saltare tutti i tuoi denti e ti mando dal dentista a metterli quelli nuovi colonnello iwa quale onore che bello essere alla festa così non perdo l'opportunità di maniare come un posseduto non ne potevo più di quel coglione che parla velocemente e dice cose senza senso ma cazzarola non posso nemmeno assentarmi un attimo che non so che fa quel cazzone del mio avvocato ehi benz e mercedes dopo devi venire a letto con me che ti faccio gridare come una cagna in calore sempre il solito pervertito bebel fustacchione andiamo portami allo street club che voglio diventare anche io una porno diva come quella sexy signora che ho vista ok ti ci porto però caspita un'altra ferrarozza della madonna certo che a vice city la gente se la passa proprio bene mentre io devo campare come un barbonazzo con soli 20 dollari e me no non farci caso ora ti porto allo street club non voglio che la polizia ergastolante mi sgami credendo che io ci sto provando con una probabile donna minorenne quindi ti porto subito lì esatto mio caro tomassello mercello se non ho ergastolato sigello nell'universo di san andreas mi rifarò con te aspetta che arriva la mia occasione buona per ergastolati definitivamente dato che hai già passato 15 anni in cella gagagagagagaga Sfigato sei e sfigato morirai. Bene 100 dollari solo per una missioncina del cazzo, e tuomino non incominciare a spappolarmi i testicoli già dal primo episodio. Loquendo di GTA Vice City, se speri di intimorirmi ti sbagli di grosso, sono molto più cattivo di Sigello di San Andreas, quindi ti conviene non farmi incazzare se non vuoi che ti piglio a cazzotti la tua faccia da cazzone che hai. Allora Tomasiello Vercello, com'è andata? Dimmi se hai scoperto qualcosa che se impazzisco butto giù la scrivania dalla paranoia che ho. Allora, cosa è successo? Dimmelo, dimmelo, dimmelo. Dopo quello che ho visto con i miei occhi, quasi rimpiango di non essere rimasto al carcere, l'unica cosa positiva è che ho conosciuta una bella gnocca di nome Mercedes che per ora è minorenne. E c'era pure un ciccione malato di figa che voleva pure trombarsela. Ah vabbè, tra l'altro ho scoperto che c'è un tizio inglese e anche lui affamato di figa, il suo nome è Kent Paul, lui ne sa qualcosa sul fatto che i mafiosi ci hanno fottuto la scish e al Malibu. Hai vedi di non fare guai? Che se no la polizia ergastolante ti ergastola quantomeno te lo aspetti. Cazzo, ora che sei andato posso pure prendere il mio crack di riserva, così vedo se riesco a rilassarvi un po'. Vai al Malibu e trova quel coglionazzo assetato di figa di Kent Paul. Ma io vorrei sapere chi è che parla mentre sono in missione, vabbò, andiamo a trovare a quest'altro malato di figa, porca minchia. Va bene che in sta città se la spassano bene con ferrarozze della madonna, solo che sta città è pieno di cazzoni affamati di vagina. Ma guarda che topa da paura, magari ti invito con me al letto, vedi che io al letto sono un leone, io le donne le faccio gridare come delle cagne in calore, dai forza dimmi di si bella topolona. Dai che se ti guardo ancora, tra poco si risveglia il mio pitone che vive nelle mie mutande. Vattene via bella topolona. Ehi 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 non così in fretta brutta cagna, ehi ma stavo parlando con lei, tu non c'entri un cazzo. Sai Kent Paul, sono l'amico di Ken stronzamberg. Rosenberg, Rosenberg, quando sento quel nome penso che, ah aspetta ma è il tizio che parla velocemente, non è capace nemmeno di uccidere una mosca. Senti, non sono in vena per ste stronzate, mi hanno rubato della shish, sai chi è stato? Ashish? Ma è roba da schifosi figli di puttana. Ehi ehi volevo dire che c'è uno chef che si rifiuta di portarti le pizze napoletane, e quindi sta attuando una vendetta. Magari potresti dare un'occhiata. Quante utili informazioni, grazie per aver collaborato. Ora vado, l'ammazzo è torno, ci becchiamo in giro, coglione. Ma si vai pure cazzone, mi sono fatto sfuggire a quella baldracca satanata di cazzi, ehi tu dammi un bicchiere di vino che devo ubriacarmi come un cesso, ma dove cazzo è finita quella? Ciuccia cazzi è tradimento. Ci mancava solo questa, oltre il danno la beffa, devo ammazzare un pizzaiolo perché si rifuta di portarmi le pizze al mio schifoso hotel, e m' volevo dire hotel di lusso. Andiamo dal bastaro a fargliela pagare, ma prima, te le trasporto... Ehi faccia da pirla? Cazzo hai da guardare? Se mi guardi ancora storto di spacco quella mascella, l'hai voluto tu? Ora te piglio a cazzotti in faccia fa che merda. Sei tu quello che si rifiuta di portarmi le pizze? Allora beccati sti bei cazzottoni in faccia e crepa come un mongolo, ecco fatto, adesso tra poco cagherai il cazzo all'inferno. Cellulare acquisito, ora puoi sapere i cazzi degli altri ricevendo le chiamate xdxd. Bravo così amico, riducilo di sante mazzate wajoh, rumpla facas tu scema, peccato che ora hai ammazzato il nostro contatto e ora anch'io sono nella merda. A proposito so chi è stato a fregarti i tuoi verdoni e il tuo hashish, dovrebbe essere stato lui, poi mio fratello è morto, solo che hai ammazzato il pizzaiolo e ora tra poco stai a morire fame. Guarda, se devo rompere anche la tua faccia di merda che hai accomodati. Ehi, non c'è bisogno di essere violento, anch'io sto nella merda come te, e in questa città che è piena di maserati, Lamborghini e Ferrerozze della Madonna, e noi siamo due barboni senza un soldo, mi sa che hai bisogno di non una, ma di due spalle, ma anche tre, chi ne ha più ne metta. A proposito ci sono altri pizzaioli che ti vogliono morto, prendi questa pistola e seguimi. Premi il tasto X per effettuare lo scatto, attento che però se corri troppo, ti verrà un coccolone, e tra poco correrai talmente veloce che devi andare al cesso. Ragazzi questa parte della missione l'assalto volentieri, poiché risulta piuttosto pallosa ho schippato la parte, quindi effettuiamo il taglio della squarquera di fumo obeso, ah no, quello si tratta della trama di un altro GTA, scusate. Ah comunque almeno sei stato utile a darmi il passaggio fino a casa, grazie. Beh dai, è il minimo che potevo fare, scoprirò chi è stato a fotterti la scisce e i verdoni, ci vediamo Tommaso Vercello. 200 dollari solo per aver ammazzato un pizzaiolo fallito, vabbè, siamo solo all'inizio, beh non serve a dire che devo tornare da quello sfigato dell'avvocato. E questa rima ci stava pure, intanto mi sfogo contro un ciccio merda, perché devo ancora smaltire la rabbia per il fatto che quel bottaniere di sonni in cularelli mi ha fatto il cazziatone per il fatto che ho perso i soldi, quindi muori che devo sfogarmi, La tua ciccia non ti permetterà di resistere ai miei cazzotti, Rocky Balboa mi fa una sega gaga gaga gaga. Siamo la polizia ergastolante di Vice City. Esci con le mani nel culo, em, con le mani bene in vista e facci un bel bocchino. Non ci penso nemmeno. Piuttosto me ne fugo con questa bella ferrarozza della madonna e voi vi attaccate al cazzo. Oh cazzo è l'uomo nero, sei tu cazzone di un Tommaso Vercello, mi hai fatto pisciare addosso, e adesso chi me li cambia i pantaloni, cazzo mi sono pisciato addosso, oh che figura di merda, ah comunque quei pezzi di merda ci verranno a trovare, ma maledetti stronzi, manco un po' di crack in santa pace, mi posso fare che in due secondi quei giurati scoprono che abbiamo perso i soldi e la sciscia, ora chi glielo racconta, Tommaso cosa facciamo, dimmelo tu cosa facciamo, dimmelo, dimmelo, dimmelo cazzo. Oh 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 oh. Beh dai potrei intimidire questi stronzi che vogliono fotterci. Ah già, credi che io sia così tanto spaventoso da far paura a quei due giurati? Persino mia nonna fa più paura di me, quindi io non riuscirei nemmeno a far paura a un bambino obeso, quindi non ci sto, non ci sto, non ci sto. Quindi ti vai da quei due stronzi, e devi fargli capire chi comanda, devi colpire duro, ma cerca di non ammazzarli, se no chi li sente a quel coglione schifoso dell'omino dell'ergastolo, altrimenti va a finire che veniamo pure ergastolati, e così finalmente abbiamo trovato la frittata fatta e buona, e ce la mangiamo pure. Ti devi dare una cazzo di calmata, ti ho già detto che il crack ti fa male e devi passare alla coca, vabbè convincerò quei tizi, ma cerca di darti una cazzo di calmata e che sei troppo nervoso. Finalmente la fortuna sta un po' dalla mia parte, quel martello potrebbe fare proprio a caso mio, lo uso volentieri per sfasciare quelle merdose auto di quei merdosi giurati, beh direi di saltare il viaggio noiosetto, quindi applico di nuovo la tecnica del teletrasporto. 3, 2, 1, teletrasporto-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o e ce urla come un coglione oh cazzo la mia povera macchina e adesso chi li ripara i miei danni ciao coglione sono quello che ho rotto il vetro gridando carlas ripara carlas sostituisce merda se n'è andato beh buon per lui altrimenti come minimo gli spaccavo i denti e lo facevo correre dal dentista bene adesso intimidiamo quest'altro coglione e finalmente finisco questa giornata di merda che tra poco non vedo l'ora di andarmi a riposare dopo una giornata stressante e tu ho un'offerta per te se hai il vetro rotto non ti preoccupare che te lo aggiusto con carlas ripara carlas sostituisce oh cazzo oh cazzo oh cazzo non uccidermi ti prego non vedi che ho moglie figli ti prego non uccidermi non dirò niente a nessuno sparirò come se nulla fosse ma non uccidermi aiuto polizia un pazzo mi sta minacciando con un martello carlas ripara carlas sostituisce vetro rotto non ti preoccupare che te lo aggiusto con il martello agagagagagagagaga u dei 400 dollaroni iniziamo già a ragionare bene sempre meglio dei schifosi 200 dollari merdosi e adesso scusatemi che dopo una giornataccia devo riposare la mia età si fa sentire purtroppo dopo 15 anni non serve a dire che sono invecchiato quindi ragazzi il video giunge al termine, penso che questo è il primo episodio che dà inizio alla prima serie loquendo del 2021, al prossimo episodio affronteremo altre emissioni di Kenny il fidanzato di Barbie, quindi alla prossima dal grande Tommaso Vercello, ciao Grazie